E salve a tutti ragazzi, qui come sempre è il vostro Ara, benvenuti in questa nuova recensione, sigla! Ed eccoci qui con un action figure del 2018, prodotta dalla NECA per la sua linea di figure in scala 1 a 4, abbiamo tra noi Spider-Man Oncoming, che significa 1 a 4 ragazzi, che questa figure è alta ben 45 cm, ecco perché ho avuto bisogno di cambiare postazione, perché questa figure è letteralmente enorme. Comunque eccola qui nella sua confezione, molto molto figa la parte frontale appunto, equivale alla parte frontale del costume del nostro Spider-Man, veramente una figata, qui c'è la finestra che mostra la figure all'interno, qui sul lato vediamo un po' di pose del nostro Spider-Man, sul retro vediamo, vedete, altre pose, qui c'è anche questa biografia che se volete leggere potete mettere in pausa adesso. Sull'altro lato vediamo altre due pose di Spider-Man, sulla parte superiore è semplicemente il logo del film e qui sulla parte inferiore nulla di interessante. Qui c'è questo piccolo suggerimento, ovvero questo peg che si può rimuovere dalla schiena di Spider-Man, poi ve lo farò vedere. Se fossi interessati all'acquisto di questa figure la potete trovare direttamente nel mio sito Aras Reviews Shop nella scheda lì in alto, oppure qui sotto in descrizione insieme a tante altre action figure. Detto questo direi di non perdere altro tempo sulla confezione, andiamo subito a vedere la nostra figure fuori da essa. Ed ecco qui il nostro Spider-Man e tutti i suoi accessori fuori dalla confezione, come vedete lui si sta appoggiando un attimo alla parete lì, ma non perché la figure non si legge in piedi, ma perché è questa postazione che non è molto stabile, perché è un divano appunto, quindi non è assolutamente la figure che ha problemi di stabilità, anzi. Comunque andiamo a vedere gli accessori, partiamo con queste due ragnatele che sono molto molto particolari, spero di riuscire a farvele vedere per bene. Eccole qua ragazzi, come vedete sono super realistiche, è veramente un effetto fighissimo che ha voluto dare Neka, non sono le solide ragnatele fatte in plastica trasparente eccetera eccetera, ma sembrano dei veri e propri fili di stoffa appunto, circondati da altri fili, e poi con della colla hanno solidificato il tutto, è un effetto veramente fighissimo, non ho mai visto delle ragnatele così realistiche su una figure. Per il resto abbiamo un bel po' di mani intercambiabili, allora abbiamo queste due qui con il palmo spalancato, come vedete molto molto ben realizzate, tutte le mani naturalmente sono dotate del lancio a ragnatele, abbiamo anche queste due qui con il palmo rilassato in questo modo, questa qui è una posa leggermente diversa, ci sono naturalmente le immancabili con il gesto della ragnatela, e poi abbiamo queste due che sembrano a pugno chiuso, ma in realtà hanno questa piccola fessura appunto per poter inserire la ragnatela all'interno. E inoltre, ultima ma non ultima, abbiamo questa testa intercambiabile con tanto di collo, perché si intercambia proprio qui al collo, con la maschera alzata, è veramente ben fatta, e qui lo scalp sottostante somiglia tantissimo a Tom Holland, ha anche la sua fossetta sul mento. Come vedete le pieghe del cappuccio sono fatte veramente veramente bene, e anche qui sul retro ragazzi, tutte molto ben fatte. E inoltre lo scalp non limita assolutamente l'articolazione, come vedete la testa può guardare verso l'alto molto bene. Una piccola chicca che ho notato è che questi occhi sono più chiusi rispetto a quelli che sono presenti nella maschera di base sulla figure, e volendo con molta attenzione si possono, vedete, rimuovere in questo modo, e quindi voi potete andare a sostituire questi con quelli lì più aperti. O magari potete anche metterne uno chiuso e uno aperto, dato che questo Spider-Man ha delle espressioni abbastanza strane con gli occhi della maschera. Ora, l'altezza della figure ve l'ho già detta, sono 45 centimetri, ma per farvi rendere meglio conto di cosa stiamo parlando, eccola qui a confronto con monnezza Spider-Man, che sembra praticamente una minifigure. Detto questo, andiamo a vedere il nostro Spider-Man più nel dettaglio, e come potete vedere ha dei dettagli veramente fantasmagorici, a cominciare dalla testa, che secondo me è fatta veramente benissimo. Lo sculpt è praticamente perfetto, somiglia tantissimo a quello che si vede nel film. Qui sul lato c'è anche lo sculpt delle orecchie che si introvedono sotto il cappuccio. Come vedete gli occhi sono un po' più aperti rispetto a quelli della testa precedente, e a proposito di occhi, spero di riuscire a farvelo vedere. Vedete, all'interno c'è questo particolare effetto, che è creato con la lente trasparente sulla parte esterna, e sotto c'è questa piccola retina appunto, e hanno creato veramente un effetto fantastico. Come potete vedere tutta la tuta ha questa texture scolpita sopra, questa texture ruvida diciamo, e tutte le ragnatele sono leggermente scolpite. Questo qui è un effetto che mi piace moltissimo, perché non sono tanto infossate, ma solo leggermente. E secondo me questa via di mezzo è l'ideale. Comunque vediamo i dettagli del corpo, io spero che stia mettendo a fuoco ragazzi, perché sono in una posizione veramente difficile per fare questa recensione. Guardate qua che spettacolo i dettagli sul busto, qui naturalmente c'è il simbolo ovviamente scolpito, anche le parti della cintura sono tutte scolpite, così come anche queste linee blu più scuro rispetto al colore della tuta. Tutto scolpito ragazzi, anche le braccia molto ben realizzate, con queste parti vedete nere. E qui abbiamo anche il lancio a ragnatele, ecco qui questa parte qui vedete è articolata da sopra al braccio, è come se fosse tipo un guanto in gomma inserito sul braccio, e l'ho girato appunto per farvi vedere un po' meglio il lancio a ragnatele, che tra l'altro ha una chicca, vedete quel buchino lì, serve appunto ad infilare realmente le ragnatele che avete visto prima, e quindi è come se le sparasse davvero, questa è veramente una figata. Continuando ancora vediamo anche i dettagli delle gambe, anche queste tutte vedete con questa texture scolpita, tutte queste linee veramente ben realizzate, e anche gli stivali sono veramente ben fatti, così come anche la suola, praticamente perfetta in ogni dettaglio. Lo vediamo anche sulla parte posteriore, eccolo qua ragazzi, che qui i dettagli non mancano affatto. Qui c'è un piccolissimo errore di painting sul simbolo, ma nulla di che. Quel peg rimovibile è questo qui, si può togliere in questo modo, e rivela questo buco appunto per infilare un'eventuale base, un'eventuale asta per reggere il nostro Spider-Man. Ma ci vuole qualcosa di veramente solido, perché la figure pesa abbastanza. E a proposito di questo ragazzi, io mi sono sbizzarrito con le pose fighe, rimanete fino alla fine del video, perché ne vedrete veramente delle belle come non si sono mai viste sul canale. Comunque, adesso andiamo a vedere le articolazioni di questo Spider-Man, che non sono niente male. Abbiamo la testa, che può guardare molto molto bene verso l'alto in questo modo, c'è la somma dell'articolazione qui alla testa, e anche quella alla base del collo. Può guardare anche molto molto bene verso il basso, e può muoversi naturalmente anche lateralmente in questo modo, quindi un'ottima articolazione. C'è ovviamente anche la rotazione, sia al collo che alla testa. Per quanto riguarda le braccia, abbiamo l'apertura a 90 gradi, c'è la rotazione a 360 gradi, piegamento doppio qui al gomito. Le articolazioni sono molto molto dure ragazzi, ed è proprio così che dovrebbe essere su una figura di queste dimensioni. Ecco qui il gomito piegato al massimo, veramente molto molto funzionale. C'è anche la rotazione qui al bicipite, e abbiamo il piegamento al gomito, nonché la rotazione. Qui a mezzo al busto abbiamo questa cerniera, che permette un movimento in avanti, vedete, in questo modo. E c'è anche il movimento all'indietro, che arriva al massimo fino a qui. C'è anche la sfera alla vita, che permette un movimento in avanti, appunto, della vita in questo modo, anche all'indietro in questo modo. C'è la rotazione anche in questo modo. Questa è un po' limitata allo scalp, non è una rotazione completa. E ora ragazzi, viene la parte difficile, ovvero l'articolazione qui alle gambe. Perché? Perché ci vuole una forza incredibile per poter muovere la gamba. Questo suono che avete sentito non è perché si sta rompendo la gamba, ragazzi, ma è proprio così che deve essere, perché è su dei ratchet, che sono molto molto duri per appunto riuscire a mantenere la figure. Quindi la gamba, con un po' di forza, riesce a muoversi praticamente quasi a 90 gradi. In questo modo, quindi è un'ottima articolazione. Questa qui è una parte in plastica morbida, quindi non limita l'articolazione. La gamba può andare anche, vedete, all'indietro, sempre praticamente a 90 gradi. C'è la rotazione qui sulla parte superiore e naturalmente abbiamo anche l'apertura massima delle gambe. Questa è veramente un'ottima articolazione che aiuterà il nostro Spider-Man in tutte le sue pose. Al ginocchio abbiamo una doppia articolazione. Qui bisogna stare molto molto attenti, soprattutto quando si riporta indietro. Comunque guardate qua che raggio incredibile che ha e non è neanche troppo brutta da vedere, anzi, perché vi dico che bisogna stare molto attenti? Perché riportandola indietro io mi sono chiuso la mano appunto nel ginocchio e mi ha lasciato questo bel segno. Quindi stiamo molto attenti qui, ok? Per quanto riguarda il piede abbiamo il movimento in su fino qui, il movimento in giù fino qui. C'è anche la rotazione laterale della caviglia, guardate qui che raggio incredibile. E poi abbiamo anche il piegamento qui alla punta del piede. Anche questo molto molto ben realizzato. Quindi ragazzi, come avete visto, si tratta di una figure molto molto ben articolata. Io non me l'aspettavo davvero da una figure così grande. La Nika in questo periodo sta dando veramente il massimo. Comunque ragazzi, per vedere la posabilità di questo Spider-Man vi lascio alle pose fighe a fine video. La mia recensione finisce qui. Io sono a dir poco stupefatto da questa figure. È veramente spaziale. Fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commento qui sotto. Lasciate anche il like se questa recensione vi è piaciuta. E se volete aiutarmi potete anche condividere il video. Vi ricordo che se foste interessati all'acquisto di questa figure con spedizione gratuita la potete trovare nel mio sito Aras Reviews Shop nella scheda lì in alto oppure qui sotto in descrizione. Acquistandola da lì mi aiutereste veramente tantissimo. Grazie a tutti per la visione. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao Dara da Spider-Man e collezionate sempre. Ciao Dara da Spider-Man e collezionate sempre.